attenzione a Pier Giovanni dentro ecco la battuta, bassa e il pallone va in porta, Severini ha segnato direttamente da calcio d'angolo, 1-0 all'Italia in questi casi non si fa pregare in genere eccolo Severini, il pallone che gira è 2-0, già doppietta per Severini è il ritorno in campo dopo qualche giornata fuori 2-0 all'Italia pronto Severini, il tiro respinta da un suo stesso compagno il lancio su cui prova a avventarsi Severini, l'attanzio Severini col fisico, attenzione se ne va il numero 22 a terra il portiere, Severini col destro non trova lo specchio della porta Cilfone, Locatelli, l'errore, attenzione alla ripartenza c'è Severini, solo davanti a Casinelli, la mette dentro e Delgenio fa 4-0 l'assist di Luca Severini il gol di Delgenio all'Italia in vantaggio di 4 gol attenzione perché Severini è stato lasciato solo direttamente dal rilancio di Cerqua e qui errore clamoroso la difesa del code 5-1 il gol di Severini lasciato colpevolmente davanti al portiere non perdona la scarpa d'oro